Un lavoro minuzioso della Polizia di Stato che grazie allo stile e alla grafia è riuscita ad individuare i responsabili degli imbrattamenti avvenuti nella città ducale nello scorso febbraio. Erano stati presi di mira i muri di edificio e i portoni di via Duomo, via Valerio e via Budassi nel centro storico. Scattate subito le indagini, gli agenti del commissariato, coordinati dalla procura, sono riusciti a risalire agli autori. Si tratta di due giovani di 21 e 23 anni. Le ricerche sono partite sia dalla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, sia con l'identificazione di diverse persone negli stessi luoghi e negli orari che potevano corrispondere a quelli in cui si erano verificati fatti. Durante i controlli sono stati fermati alcuni ventenni del macerattese che nei giorni prima avevano partecipato a una serata in casa di studenti universitari e alla quale erano presenti anche altri ragazzi, molto noti nell'ambito del genere musicale definito trap, in voga tra i giovani. Una volta presa la notizia, i poliziotti con l'ausilio dei supporti informatici hanno esaminato lo stile e il contenuto degli imbrattamenti, formati in gran parte da scritte in codice che in realtà erano collegate proprio a quel genere musicale e al gruppo di ragazzi che si erano radunati per l'occasione. Poi sul web sono state carpite ulteriori informazioni determinanti. È così che l'attività di indagine si è spostata nel maceratese, provincia di residenza di alcuni trapper presenti alla festa, ma anche degli autori delle scritte che hanno ammesso le loro responsabilità. Con quest'ultimo caso salgono a 11 in totale le persone denunciate dal personale del commissariato per fatti analoghi commessi dal 2017 ad oggi. È sotto gli occhi di tutti, ha precisato la polizia, l'ingente danno arrecato dal punto di vista dell'impatto visivo ed economico in un contesto quale quello di Urbino, città patrimonio dell'UNESCO.